E' stato messo in sicurezza il grattacielo di 18 piani andato a fuoco lo scorso 29 agosto a Milano per evitare il crollo di eventuali parti pericolanti della Torre dei Moro di Via Antonini. La facciata dell'edificio è stata incamiciata all'interno di un'armatura metallica e una rete. A eseguire l'intervento una ditta specializzata incaricata da inquirenti e investigatori. L'edificio su disposizione della Procura di Milano è ancora sotto sequestro. L'indagine aperta con l'ipotesi di disastro colposo è a carico di ignoti e riguarda, oltre agli aspetti relativi alla sicurezza del grattacielo, in particolare i pannelli del rivestimento esterno che alle alte temperature si sono liquefatti, le cause del maxirogo che si è originato certamente in un appartamento al quindicesimo piano e molto probabilmente sul balcone. Al baglio ci sono parecchie ipotesi, tra cui un mozzicone di sigaretta e il cosiddetto effetto lente, mentre è stato escluso un cortocircuito. Intanto hanno fatto sapere i residenti della Torre dei Moro, nei giorni scorsi, che gli alloggi promessi agli sfollati per ora non ci sono. Il Comune di Milano, attraverso l'impegno dell'assessore Maran, ha iniziato a definire un percorso per rispondere a tutti i problemi, hanno scritto qualche giorno fa i condomini di Via Antonini. Tuttavia siamo ad un punto morto, in quanto devono ancora essere compiutamente verificati i criteri di assegnazione degli alloggi, che, se non modificati, rischiano di vanificare quanto offerto.